Non un giorno per rubare il suo sogno, il destino riprese le braccia di gambe. E fu proprio il peggior di bui, che nel trovare una nuova forza. Forza per affrontare il nuovo stile. Forza per affrontare il suo sogno e conquistare il mondo con la punta del suo sogno. E questa è una storia. Forza per affrontare il suo sogno.